Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove ci sono code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. In A11 si informa che l'area di servizio di Migliarino Sud in direzione Firenze ha il camper service chiuso per un guasto all'impianto. Sulla strada provinciale 34 di Rosano, senso unico alternato per il ristringimento della carreggiata, in tratti saltuari e diversi, tra i chilometri 1,500 e 4,800 nel comune di Bagnarripoli. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, ordinanza antismog prorogata fino al 16 gennaio a Firenze, Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa, Lastra, Signa, Scandicci e Bagnarripoli. Informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!